La realtà della zona che riguarda Salviano 1, Salviano 2, Borgo di Maguignano, ma poi anche i quartieri intorno, Leccia, Scopaia e gran parte della città, è una situazione difficile, caotica, con problemi di collegamenti viari e anche di traffico pesante e leggero. Questo perché dovrebbero essere fatte delle opere da tempo, in particolare a Borgo di Maguignano e Salviano, che permetterebbero dei collegamenti veloci e snelli con il resto della città. Cosa che non è stata fatta, perché tutti sanno probabilmente le battaglie che io stesso in prima persona ho condotto, a Borgo di Maguignano e Salviano sono rimaste ferme una serie di opere. Un'opera che è però fondamentale, è la cosiddetta bretella o ponte sul rio Maggiore. Allora, noi abbiamo conosco quattro diverse soluzioni rispetto alla possibilità pratica di mettere questo ponte, in particolare abbiamo considerato una che è un ponte prefabbricato in acciaio che si può installare in pochi giorni con circa 400 mila euro, che sono una cifra modica per un'amministrazione o per un soggetto attuatore che dovesse installare l'opera stessa e che permetterebbe di risolvere finalmente i problemi di collegamento tra tante parti di città e in particolare San Piano e Borgo di Maguignano.